Cari amici, bentrovati, sono qui che mi godo gli ultimi giorni di vacanza e mi arriva una notizia che non potevo non condividere con voi e quindi ho dovuto cercare, come vedete, una sistemazione un po' tranquilla, un po' di fortuna per parlare con voi perché ho chiamato questa puntata insulti, palpeggiamenti, bestemmi, schiaffi, la dura vita del cantante d'opera e forse potremmo anche aggiungere del musicista in generale perché, chi è dell'ambiente lo sa, è rimbombata la notizia del fattaccio accaduto a John Gardiner, John Elliot Gardiner per chi non lo sapesse, John Elliot Gardiner, anzi Sir John Elliot Gardiner, uno dei più importanti direttori d'orchestra inglesi famoso in particolare per il repertorio barocco, ma va bene, non è questo che in questa sede ci interessa che pochi giorni fa, durante un festival in Francia, ha preso a schiaffi un cantante reo di un errore musicale cioè di un ingresso musicale sbagliato. Dopodiché la cosa si è composta, il direttore si è immediatamente scusato sia privatamente quel cantante che pubblicamente, ha addirittura rinunciato ai concerti che avrà voluto fare quest'estate con la BBC e quindi la faccenda probabilmente finirà a terra lucevino. Ve ne parlo però perché se questo stesso episodio fosse successo cento anni fa oggi ne parleremmo come di un aneddoto divertente e magari anche rivelatore della forte personalità del direttore e del suo vulcanico carattere. Ora, disclaimer per le teste di marmo, è ovvio che non si può mettere le mani su nessuno neanche se è un tenore, in questo caso può essere un basso quindi ha maggior ragione se qualcuno, un cantante, un musicista, fa qualcosa che al direttore non piace, lo si ridarguisce lo si può insultare nella mente ma non gli si mettono le mani addosso, ok? Ma in passato la cosa era ben diversa il direttore più famoso per le sue intemperanze e anche per i tanti episodi che si raccontano era ovviamente il grande, grandissimo Arturo Toscanini che essendo padre, padrone, dominos di tutte le situazioni in cui lavorava e in più avendo un carattere che definire difficile è un eufemismo spesso si lasciava andare a delle esternazioni che definire colorite è veramente, veramente poco non per niente esistono in commercio già dagli anni 70, oggi li trovate anche su YouTube delle registrazioni, delle sue prove dove lui dire che sbraitasse contro i cantanti o contro i musicisti è veramente poco proprio gli insultava pesantemente e spesso tirava giù anche qualche porcone ma gli insulti erano talmente pesanti che il mio dubbio è che essendo fatti alla NBC fondamentalmente non venissero del tutto compresi, anzi mi auguro che non venissero del tutto compresi dai musicisti americani che sicuramente capivano che il maestro era arrabbiato ma per loro fortuna non capivano bene nel dettaglio tutto quello che gli stavo dicendo prova a fare oggi una cosa del genere, cioè prova ad andare davanti a un'orchestra professionale a insultare i professori d'orchestra innanzitutto devi essere toscanini per farlo ma poi anche se sei toscanini non te lo fanno fare alla seconda intemperanza arriva il delegato sindacale ti batte sulla spalla e dice maestro basta perché altrimenti qui finisce male e a proposito di bestemmia era famoso un direttore che ha scomparso un paio di anni fa che forse perché era toscano aveva un po' la bestemmia facile e di aneddoti sul suo conto se ne raccontano tanti uno dei più noti è che durante la prova con una famosa orchestra di Milano lui più di una volta avesse nominato il nome di Dio in vano durante l'intervallo un delegato all'orchestra va in camerino dal direttore e dice maestro guardi dovrebbe cercare di stare un po' più tranquillo perché comunque offende la sensibilità e la credenza religiosa di molti professori d'orchestra e quindi insomma dovrebbe un po' darsi una calmata lui disponibile e disse no no ha ragione ma sa com'è io mi fervoro no no ma sia tranquillo che cercherò di trattenermi riprende la prova e al primo errore dell'orchestra lui fa e vabbè ma qui come si fa a non dire porco c'è da dire che chi ha fatto il conservatorio negli anni in cui l'ho fatto io appartiene probabilmente all'ultima generazione di quelli che sono stati insultati cioè gli insulti da parte degli insegnanti erano se non voglio dire la regolarità assolutamente no anzi io ho quasi tutti avuto insegnanti molto educati non tutti tutti diciamo quasi tutti però voglio dire ho sentito a tanti episodi in cui gli insegnanti hanno veramente pesantemente apostrofato gli alunni questa cosa però si porta se vogliamo fino ai giorni nostri soprattutto con i direttori magari un po' più anziani è nota pochi anni fa la polemica che c'è stata con Barenboim a Dresda orchestra nella quale è una delle migliori orchestre del mondo tra l'altro in cui praticamente i professori orchestra siano lamentati per gli atteggiamenti da virgoletato bullo e gli atteggiamenti dittatoriali di Barenboim e quindi qui ci poniamo la questione ma fino a dove un direttore si può spingere per ottenere quello che vuole detto in altri termini è ragionevole che se io direttore ho chiesto una cosa e non è stata fatta la prima volta alla seconda, alla terza volta che la chiedo la possa fare in maniera più virulenta, diciamo così, più accalorata in linea teorica si credo che la discriminante sia se durante lo sfogo insulti qualcuno o se semplicemente ti arrabbi e imprechi contro il mondo e non contro una persona specifica ripeto, questo è il giorno d'oggi perché ai tempi di Toscanini era assolutamente normale che lui si rivolgesse al singolo musicista e gli dicesse lasciamo stare capitolo palpeggiamenti e affini allora, è il segreto di Pulcinella che buona parte delle cantanti finiva a letto col direttore d'orchestra che poi lo facessero perché il direttore era una persona di grande fascino o perché pensava di avere delle convenienze e qualcosa in cambio questo a noi non interessa perché fra adulti e consenzienti è tutto ammesso ma il punto non è questo il punto è che il direttore approfittava della sua posizione dominante o meglio ancora il direttore oggi come oggi approfitta della sua posizione dominante vi ricordate quel film con Checco Zaloni in cui lui è lì a rilasciare le licenze di caccia e un cacciatore gli porta una quaglia come omaggio non in cambio della licenza così come Cadò mentre va a ritirare la licenza e poi si pone tutti i dubbi esistenziali ma non è che concussione, ma non è che corruzione insomma è più o meno la stessa cosa ovvero sia siamo sicuri che il direttore non ci provi con le cantanti ma in maniera intelligente però cioè perché la maniera stupida allungare la mano è sempre stata stupida e oggi è veramente da idioti ciò non toglie che ci sono mille ragioni in un orchestra come in un ufficio come in un qualunque ambito aziendale in cui una persona può direttamente o indirettamente approfittare della propria posizione magari inducendo il proprio interlocutore o la propria interlocutrice a pensare che a fronte in una certa contropartita la sua carriera ne avrà aggiovamento questo però ovviamente rientra tutto nell'ambito dei comportamenti consenzienti allora, chiarisco subito non ci penso neanche a infilarmi nel cul de sac del Me Too ma è cosa nota alle cronache che diversi direttori hanno avuto delle denunce denunce che spaziano qualcuna per qualche apprezzamento fuori luogo o per un commento un po' sessista qualcun'altra più grave per molesse sessuali vere e proprie fino ad arrivare alla peggiore di tutte riferita a una pratica che non posso dire perché altrimenti rischio che l'algoritmo di YouTube mi blocchi ma che diciamo che quando questi comportamenti di cui abbiamo parlato prima sono rivolte nei confronti di individui decisamente di età bassa concludendo, è indubbio che l'ambiente della musica mediamente sia abbastanza androcentrico però credo che la nostra società stia affrontando comunque un grosso cambiamento anche culturale nei confronti di certi atteggiamenti che ci sono sempre stati e probabilmente sono sempre passati sotto silenzio non voglio ovviamente illudermi e pensare che questi atteggiamenti scompariranno ma io credo che rispetto a 50 o più anni fa si stiano sicuramente riducendo poi ovviamente nei commenti mi aspetto quello che scriverà e no perché quella gente ci ha provato con me o quel direttore orchestra o quel direttore artistico ho detto si ridurranno, non scompariranno perché probabilmente certe brutte abitudini sono nella natura umana e ce le porteremo avanti ancora per lungo lungo tempo alla prossima